Nuova Pescara inizia una lotta contro il tempo. La fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che pur tra qualche dubbio si farà, deve passare per un piano di intervento ben preciso, fissato nella proposta di legge presentata ieri dal presidente del Consiglio regionale Sospiri. Entro settembre, infatti, i comuni dovranno riuscire ad accorpare tre servizi essenziali e almeno due su tre dovranno avere elaborato studi di fattibilità sull'assetto organizzativo dell'ente e su altre questioni. Raggiunti questi obiettivi verificati dalla regione, la data di fusione slitterebbe al 1 gennaio 2027. In caso contrario, i consigli comunali saranno sciolti e la nuova Pescara nascerà in anticipo il 1 gennaio 2024 con l'intervento di un commissario ad acta nominato dalla regione. La posizione dei tre sindaci interessati Chiara Trulli, Ottavio De Martinis e Carlo Masci. La proposta di legge prima dell'accorpamento dei servizi impone un'attività di ricognizione e di verifica dell'esistente. Quindi con serietà bisognerà fare questi studi di fattibilità e questi studi che potranno portare a una ricognizione dell'assetto organizzativo attuale di quella che è per esempio tutta la dotazione di società partecipate dei tre comuni, tutto il corredo organizzativo dei tre comuni e la situazione della contrattualistica attualmente in essere. Insomma solo dopo questa attività di ricognizione si potrà parlare di quelli che sono i servizi effettivamente da mettere a sistema. Quindi insomma si tratterà di lavorare in una corsa contro il tempo. Monte Silvano da sempre ha perplessità relativamente a questo processo di fusione, però non ha mai fatto mancare la propria collaborazione a lavorare affinché forti di una legge vigente si arrivi a questa fusione nel miglior modo possibile. Io ringrazio il Presidente Sospiri così come tutti gli altri firmatari di questa modifica alla legge regionale che sicuramente dà dei tempi e una roadmap ma al tempo stesso garantisce nell'eventualità di una impossibilità ad arrivare al meglio per il territorio dei tempi superiori. E' quello che chiedevamo forti di una serie di riunioni che abbiamo portato avanti con i comuni di Pescara e Spoltore. Abbiamo sempre sottolineato, almeno noi e Spoltore in modo particolare, quanto il fattore tempo sia importante per fare il bene del territorio e diversamente da quello che accadrebbe se fosse la fretta in qualche modo a dettare la linea. Certamente Pescara non voterà il rinvio al 2027, però se Montesilvano e Spoltore dovessero votare il rinvio Pescara ne prenderà atto e lavorerà con concordia e con unione convintamente per raggiungere l'obiettivo di questa nuova grande città che quando sarà realizzata sarà la diciannovesima città d'Italia su 8.000 comuni. Quindi pensate quale forza potrà avere questa nuova città. Quindi noi siamo pronti a lavorare con qualsiasi tipo di legge, perché poi la legge deve essere approvata in Consiglio e sulla base di quello che la legge prevederà. Aggiungo anche che credo che in questo momento bisognerà superare le divergenze anche sul nome da dare alla città. Il nome non potrà che essere Pescara, io mi farò parte dirigente per scrivere a tutti i consigli regionali per chiedere loro di fare da subito un emendamento alla proposta di legge per prevedere che il nome sia Pescara, anzi chiederò anche ai miei due colleghi sindaci di Montesilvano e di Spoltore di aderire a questa proposta. E martedì i tre sindaci sono stati invitati all'Aquila per un incontro audizione con la Commissione regionale.